Il progetto è fermo dove sta purtroppo, è un cantiere come tanti ad Avellino aperto e mai finito, non si hanno notizie, non ci sono risposte, dove si va a fare domande le risposte sono sempre le stesse, sì dobbiamo vedere, dobbiamo fare, faremo, diremo ma le risposte non arrivano. Io Ottavio sono molto contento che ieri nel Consiglio Comunale il consigliere Ivo Capone ha fatto un'interrogazione all'Aggiunta Comunale chiedendo le motivazioni del taglio degli alberi e di come sta andando avanti appunto il progetto e non sono molto soddisfatto della risposta data dall'assessore Mingarelli il quale io ho contattato, siamo stati in stretto rapporto, siamo in stretto rapporto proprio per cercare di capire a che punto stanno i fondi, a che punto sta il progetto, però l'assessore Mingarelli ha risposto dicendo che gli alberi che sono stati tagliati negli scorsi giorni erano alberi già sperimentali, io smentisco totalmente questo perché gli alberi sperimentali li vedete alle mie spalle, i quattro alberi sperimentali sono qui, quelli là che sono stati tagliati sono alberi che sono stati piantati nell'era Galasso quindi 10-15 anni fa e ovviamente la sperimentazione 10-15 anni fa rispetto a oggi è andata molto avanti, ripeto questi sono croni francesi, questi con questi platani, di questa specie di platani, della specie Platano-Vallis-Clausa ha risolto il problema a Firenze e in altre città italiane. E' una corsa contro il tempo? Si, è una corsa contro il tempo, si rischia di perdere tutto, si rischia di perdere fondi che ancora devono arrivare almeno a giugno, quindi sto chiedendo notizie di questi fondi, si rischia di perdere proprio il tempo materiale per piantarli perché con l'arrivo della stagione invernale non si possono piantare nuovi alberi. Questo non è solamente il tuo sogno ma è il sogno di tutta la comunità velinese, come fare per cercare di non perdere questa occasione? Purtroppo io più che affidarmi all'amministrazione non posso fare niente, chiedo ovviamente ai dirigenti comunali che erano sia nell'era foto che sono ancora adesso, di portare le carte giuste all'assessore perché è normale che l'assessore sia un assessore nuovo, quindi è normale che non sia informato e dettagliato su tutto, quindi chiedo ai dirigenti comunali di informare il più possibile in modo da velocizzare i tempi proprio per evitare di perdere tutto il lavoro fatto da un anno a questa parte.